Musica Ben trovati tra i spettatori di TV6 all'appuntamento con le previsioni meteorologiche per mercoledì 26 ottobre. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che sulle regioni centrali avremo condizioni di instabilità diffusa con possibilità di piogge e rovesci, mentre sulle regioni del sud Italia e quelle del nord ovest avremo tempo in genere più stabile a tratti soleggiato. La ventilazione risulterà proveniente dai quadranti settentrionali al centro nord, mentre proverrà ancora dai quadranti meridionali al sud Italia. Le temperature saranno in generale lieve diminuzione. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino avremo condizioni di cielo coperto o molto nuvoloso su gran parte del territorio regionale, tuttavia con il passare delle ore la condizione andrà a peggiorare, con piogge e rovesci che interesseranno un po' tutto il territorio regionale, ma in particolar modo la fascia costiera. Nel corso della sera le condizioni meteorologiche continueranno a risultare instabili, ma le precipitazioni più intense interesseranno in particolar modo il pescarese e il chietino costiero, mentre andrà migliorando nelle zone interne dell'Aquilano. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Grazie per la visione!